Una campagna per finanziare la ricerca scientifica, Unicoop Firenze ha avviato una raccolta fondi. Oggi è stato presentato il progetto di crowdfunding a sostegno della ricerca sugli anticorpi monoclonali per la cura dell'infezione da Covid-19. Destinatario della raccolta fondi sarà il Mab Lab, laboratorio di ricerca della Fondazione Toscana Life Science, coordinato dallo scienziato di fama internazionale Rino Rappuoli, che ha ribadito l'importanza della ricerca scientifica. Può risolvere molteplici problemi, dice uno tra tutti, questo della pandemia. Inoltre, quando la ricerca è di qualità, crea posti di lavoro, è un motore dell'economia e dà la possibilità ai giovani di essere educati in Italia invece che andare all'estero. La ricerca è continua perché il virus muta, dice Rappuoli, dobbiamo isolare anticorpi e la nostra missione è quella di essere sempre un passo avanti al virus. Lo scienziato distingue il vaccino dagli anticorpi monoclonali. Sono complementari, dice, se li abbiamo entrambi controlleremo meglio la pandemia. Se diamo il vaccino oggi, si dovrà dare una seconda dose il mese successivo. Il soggetto vaccinato sarà protetto dopo circa 45 giorni dalla prima assunzione e poi per anni. L'anticorpo monoclonale invece ha un effetto immediato, quindi la persona dopo 5 minuti è protetta, ma è una protezione che dura poco, solo 6 mesi. Dovremmo dare l'anticorpo oggi e il vaccino per la copertura per i prossimi anni. Usandoli entrambi si controlla il virus. Per quanto riguarda gli anticorpi monoclonali, la sperimentazione sarà suddivisa in due fasi. Nella prima verrà testato su volontari adulti e sani, la seconda invece coinvolgerà 500 persone positive al tampone. Sarà a disposizione in larga scala nel marzo del 2021. Per quel periodo è previsto anche l'arrivo del vaccino.